credo questi giorni stanno tutti parlando dei buchi neri allora io di buchi neri me ne intendo sono un grande cacciatore di buchi neri ieri come oggi ieri facendo riferimento alle oggettine reclutate dalla mia cara amica nicola minetti buchi neri circondati da perisoma rossi quelli preferiti dai comunisti ma che in questo caso eludendo la politica contrastavano molto bene col colore dei buchi neri oggi i tempi sono cambiati io sono cambiato l'età avanza anche per me e quindi al posto dei buchi neri nelle oggettine preferisco andare a caccia di buchi neri nelle opere d'arte ad esempio la venere del botticelli oppure parlando di leonardo la famosa gioconda soprattutto per scoprire se ci troviamo di fronte ad un travestito quindi leonardo travestito da donne oppure ad una donna vera e propria cremio mi auguro mi auguro da solo buona caccia ai buchi neri cremio